ciao a tutti ragazzi stasera spettacolare di nuovo come potete vedere qui di nuovo un bel ambo secco sul milano e stavolta c'è perché ho controllato perché a volte li vedo qui e poi magari qui non ci so cioè poche volte capita che magari sono solo i capogiochi qua ti dà l'illusione invece stasera di nuovo ambo secco 11 79 ambo secco milano 11 79 ambo secco al primo colpo quasi tutti i miei programmi che ho realizzato allora 11 79 poi il 3 palermo 9 nazionali ambatta e poi il resto non dato molto però ambo secco buono adesso andiamo a vedere sugli altri 5 programmi di questo unico programma dove sono cinque programmi interni allora quaterne secche e di john le due allora 11 79 andiamo qui a vedere questo eccolo qui 11 79 ambo in quartina qui qui invece non ha dato le quaterne di john andiamo subito a vedere eccolo qui 11 79 11 79 anche qui due ambi in quattro quartine praticamente c'è due in due quartine però gli altri niente e i terni 11 79 11 79 questa è la fila dove io gioco a palermo il terzo il terzo terno della fila di palermo che gioco e ho giocato stasera 13 43 20 non ho preso niente però è uscito il 3 come potete vedere negli altri nel secondo nel quarto e può capitare e può capitare anche che esca all'interno dalla seconda come è uscito a cagliari dicembre oppure nelle altre però questo giocando il terzo mi sono un po stancato però continuo fino a dicembre almeno e niente stasera non ho preso niente super la notte non ho applicato niente e vabbè monster dog invece non è uscito già parte non bassi 79 non è uscito all 11 perché i calcoli ripeto sono simili ma non uguali quindi a volte capita che magari si becca qui non si becca di la eccetera eccetera che dire ragazzi io vi lascio sempre link sotto in tutti i miei programmi vi dico con sincerità il programma di superano l'otto lasciate perdere quello di dice l'otto non ti dico pure però comunque danno poco adesso non devo ancora controllarlo perché non ne ho voglia controllare tutti i programmi che ho sinceramente non ne ho voglia e niente ragazzi stasera ambos secco di nuovo e sono contento per chi ha vinto di nuovo per chi mi segue per chi segue i miei programmi e i miei video ambo secco 11 79 non vi conto palle non vi dico giocate l'ambo diametrale questo più questo che poi non esce uno ogni 600 anni vi prendono per il culo io invece no e quindi vi dico le cose come stanno capita come l'altra volta che mi ci avete messo dislike perché è uscito qui sembrava che fosse uscito l'ambo invece qui poi non c'era perché era che l'avevo detto subito poi è uscito su monster dog ma ciccibelli non è che è sempre facile che c'è sempre l'ambo secco però il primo colpo anche se su monster dog come era capitato due tre strazioni fa c'era l'ambo sui numeri però il primo colpo non è male lo stesso e ci sono imbecilli che cliccano su dislike pazienza va bene qui 11 79 stasera ambo secco ripeto e sono contento dei miei programmi anche se io sono contento fino a certo punto perché se non vinco io mi inizio già incazzare un po perché voglio che esca il mio terno e voglio anche zeccare un po superonarotto che nelle ultime stava zeccando qualcosa nelle quali briciole invece stasera non ha dato nulla però nel blocchetto nella scelta di numeri visto tra i numeri comunque quasi sempre che è così e va bene ragazzi io niente vi lascio ho fatto il quarto album non so se vi può interessare magari non ve ne frega la cippa l'ho finito questi giorni si chiama il forte ford dimension of soul è il quarto e musica strumentale elettronica misto al metal misto al progressi sperimentale e molto melodico comunque è questo qui non so se riesco a farlo vedere lo stavo ascoltando eccolo qui sono in copertina mi diverso fare lo scemo e niente vi faccio un po di pubblicità ai miei prodotti intro metal fury se sentite all'inizio c'è un po di pianoforte poi dopo si scatena un po però non ci fate caso perché le altre poi la maggior parte sono abbastanza melodiche c'è un po di metal ma poi sono abbastanza melodiche non sarà perfetto perché ho dovuto fare anche tutto da solo comunque e niente va bene ragazzi e vi lascio i link sotto dei miei programmi e cautela al gioco perché non è facile ve lo dico sempre e a volte magari uno gioca a bari per me c'è una cippa come vedete nelle altre non è uscito granché a palermo dove gioco io è uscito solo il 3 che io tra l'altro non ho neanche preso perché non era nella fila che ho giocato io perché gioco la terza fila ci sto aspettando un terno speriamo bene e tra l'altro ha dato 2 3 4 una estrazione di stasera del palermo un po assurda e niente ragazzi qui niente qui comunque ha dato due ambi c'è un ambo su terzina che non è male sono sempre 11 79 qui ha dato un ambio in terzina che è sempre con un euro sono circa 78 euro credo non è male al primo colpo qui ha dato proprio i due ambi ripeto due ambi in quartini due quartine in quattro quartini da giocare presi in due quartini 11 79 11 79 che è qui ragazzi io prima o poi non so se mi stancherò di far video vedete un po voi io non mi sto a non è che sono di quelli che dico venite da me perché sono il migliore non mi interessa non sono neanche un lottologo non sono anche neanche un improvvisionista eccetera vi faccio vedere dei risultati reali e sinceri che non ci sono palle non sono cose create per photoshop e per prenderli per il culo e direi ragazzi seguite gli ambo questo più questo l'altro diametrale l'altro figura la figura di merda non mi interessa non sono cose cagate che seguite da altri ma non mi interessano cioè non vi prende per il culo quindi vi faccio vedere le cose reali è difficile il lotto come sapete ve lo dico subito perché chiaramente se uno ha giocato 12 ambi a bari o cagliari firenze o anche genova dall'amicità non ha preso una cippa e ha speso un sacco di soldi capisco 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 è difficile lotto anzi se ci state la larga la notte anche meglio però io vi faccio vedere ripeto delle cose reali dai miei programmi è così vi dico la realtà delle cose stasera 11 79 dai 12 ambi secchi però preso 11 79 11 79 quello che poi ripeto c'è anche l'altro mio programma ambo secco vincente che non è qua dentro però ve lo lascio nei link sotto i video ci sono tutti che sono i primi quattro di questo programma 12 ambi secchi di john è lo stesso soltanto che non c'è tutto lo sviluppo è chiaro ci sono uno due tre quattro per chi vuole giocare a bari cagliari e non è così c'è solo una fila adesso però aprirò vi farò vedere prossima volta magari e ci sono i primi quattro cioè appena digiti per esempio se ti vuoi sciogliere bari digiti cinque numeri e ti escono fuori quattro ambi di giocare però non c'è tutto lo sviluppo quindi stasera se per esempio uno avesse giocato nell'altro programma non avrebbe non avrebbe preso perché uno due tre e quattro sarebbe fermato qui e non avrebbe preso lo sviluppo nello sviluppo 79 11 chiaro ragazzi ci sentiamo al prossimo video mi raccomando cliccate dove volete sulla iscrivetevi ringrazio ringrazio i nuovi iscritti nuovi iscritti anche se si iscrivono quasi tutti per il lotto però io non faccio solo lotto faccio un sacco di cose playlist e musiche sono un pittore autodidatta potete vedere la mia pagina john art gallery gianfrancosini su instagram e su facebook ci sono tutti i miei lavori ultimamente stavo facendo delle sculture in creta se scorrete sotto ci sono tutti i miei quadri e niente mi faccio un po di pubblicità le mie pagina le mie cose va bene ragazzi mi raccomando stasera ha dato bene di nuovo però che quando non dà o da meno bene non ci cliccate sul dislike perché è una stronzata poi magari sono i soliti imbecilli che magari non sono iscritti comunque tanto non mi interessa però non è facile per dirvi che non è facile quindi non vi prendo in giro e vi dico le cose reali va bene ragazzi ho parlato tanto anche stasera parlo tanto spesso e non me l'accorgo e ci sentiamo il prossimo video mi raccomando cliccate sul like se volete che iscrivetevi ringrazio i nuovi iscritti i vecchi iscritti e quelli che si vogliono iscrivere da adesso in poi mi fa piacere spero che qualcuno abbia vinto e che mi dica guarda john vinto mi fa piacere è chiaro che se io becco il terno seco mi fa ancora di più perché e niente dai va bene ragazzi dai ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio e alla prossima speriamo che dia di nuovo dai ci sentiamo e buona serata ciao a tutti grazie a tutti ciao